Bisogna capire che cos'è il fenomeno Grillo e credo che ci sia ancora una discreta difficoltà a comprendere questo show, questo format che abbiamo cercato col giornale di spiegare e che adesso si dispiega su un ambito europeo. Cioè l'idea di far immaginare al signor nessuno con nessuna particolare competenza di poter entrare nella stanza dei bottoni diventa la chiave attraverso il web per alimentare questo processo di costruzione di che cos'è l'ipotesi Grillo. Ora questa ipotesi non viene calibrata semplicemente su un territorio di potere, di conquista in Italia, ma viene calibrata su un terreno più ampio, è un format che parla alla pancia di tutta Europa, che è una pancia affamata e in difficoltà contro la crisi e in questi termini l'operazione di Grillo si amplierà per le europee del 2014. Quindi non occorre pensare alle uscite di Grillo come un momento negativo nei confronti della politica italiana, positivo o meno nei confronti del presidenzialismo, ma fa parte di una grande strategia in cui la pancia parla ai lettori, parla ai cittadini e parla soprattutto a un'ipotesi nella quale tanti uomini di potere europee possono interessarsi a riprodurre lo stesso format nel loro paese. È un partito molto umorale che dipende dagli umori del suo leader capo. La cosa interessante è che negli ultimi tempi è esploso un'altra inchiesta sempre su Grillo, che si è alimentata sul web a cura di un'associazione che cura l'analisi della trasparenza dei partiti, della pubblica amministrazione e le attività delle mafie, che si chiama Casa delle Legalità di Genova. Questa associazione ad esempio fa notare che gli importi dei finanziamenti del movimento di Grillo, che ha un unico tesoriere del Grillo e non ha dei tesorieri locali per statuto, ha comunque degli importi ingenti. Immaginiamo una città come Savona, i militanti, gli attivisti dicono che incassano 10.000 euro durante la campagna elettorale 2013, ma non lo dichiarano. Se moltipliciamo questo per città di milioni di abitanti come Roma, Torino, Genova, Napoli, abbiamo degli ingenti quantità, è tutta una prassi che è totalmente fuori da qualsiasi elemento di illegalità. E quindi sembra molto particolare poi andare ad avere un contatto con questo movimento, che per quanto cresca su l'elemento della critica e della trasparenza come elemento positivo, poi usa la trasparenza come uno strumento e una leva contro i nemici e gli avversari, in questo caso anche i giornalisti. Quindi un giornalista che semplicemente fa emergere dei dati reali nei confronti del movimento, diventa un nemico. Può essere un giorno santificato e il giorno dopo diventare l'assoluto avversario. Ed è una dinamica molto difficile da comprendere, se non comprendiamo che a Monte c'è questo elemento del format grillo, cioè far immaginare alla persona comune, senza una particolare competenza, di accedere alla stanza dei bottoni, come gli italiani immaginano la possibilità di essere l'allenatore della nazionale di calcio, eccetera. Va dai 10 ai 40 parlamentari che potrebbero muoversi verso un gruppo autonomo, ma il problema è che non c'è un approdo, cioè non c'è un'entità, una calamita così forte che gli permette poi di essere ricandidati o di continuare la loro carriera politica, la loro vita politica. Non essendoci questo approdo diventa sempre più difficile la possibilità, se non in termini di rottura, fino a se stesse, perché poi molti di questi candidati sono dei signori, nessuno, che sanno di non avere una vita politica senza grillo. Sarco, ho una domanda, volevo sapere, lui che segue i grillini, ma secondo te una rottura determinata da una causa extra politica, come può essere la reazione di Berlusconi contro il governo a una condanna, potrebbe cambiare le cose interne al gruppo di grillo? Sì, però dipende molto dalla posizione assunta dal PD, dai leader del PD, se i leader del PD riescono ad essere convincenti nella posizione assunta, danno come al solito poco spazio alle velleità di grillo e del gruppo, e quindi a eventuali spaccature di interpretazioni. Se invece l'opzione è debole ed è frammentata, lì si inserisce sia grillo che il gruppo. Ora bisogna capire qual è l'elemento di rottura tra i due. L'elemento di rottura in questo momento non è assolutamente Berlusconi, Berlusconi è un elemento che riunisce tutto il gruppo, così come la capacità di grillo di trovare un nemico esterno, che può essere il giornalista, può essere Agabanelli, Rodotà o chiunque altro, sono semplicemente dei simboli che Grillo utilizza, non fanno altro che tenere coeso il gruppo. Anche adesso riuscire a individuare nella Lombardi l'elemento negativo è stato un modo per ricoalizzare i deputati intorno a un'ipotesi di lavoro.